Cittadini, come voi sapete ho deciso di candidarmi a sindaco della città di Caccamo per diversi motivi, tra cui l'amore profondo per la mia città e per il mio territorio, l'insoddisfazione per l'attuale politica a livello locale, il senso di gratitudine nei confronti di coloro i quali mi hanno sostenuto in questi cinque anni e la convinzione che in questa mia città ci sono delle enorme potenzialità che se sfruttate possono contribuire allo sviluppo socio-economico del nostro territorio. Il mio è l'unico progetto serio, vero e credibile di rinnovamento e di sviluppo della città di Caccamo. Io ho lavorato in questi cinque anni in libertà, senza condizionamenti, senza imposizione, solo per il bene comune. Nei prossimi anni, se me lo consentirete, lavorerò con la stessa determinazione, con la stessa convenzione, con la stessa libertà per la città di Caccamo e Caccamesi. E allora l'11 giugno fate vincere le idee che contano e soprattutto votate Salvatore Comparetto, sindaco della città di Caccamo, per essere orgogliosi anche voi di essere cittadini caccamesi.